Buongiorno, sono Isabella Pezzini e sono professore ordinario presso la Sapienza, in particolare la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, dove insegno principalmente scienze semiotiche dei testi e dei linguaggi, è quindi una materia fondamentale che riguarda l'impostazione, la struttura e la formulazione dei testi nelle loro varie modalità. La collana di Nuova Cultura, di cui volevo presentarvi alcune caratteristiche, nasce con degli obiettivi diversi fra loro. Un primo obiettivo è quello di dar conto di, per esempio, delle ricerche che noi portiamo avanti all'interno del nostro insegnamento e del nostro gruppo di ricerca e a questo proposito, per esempio, abbiamo pubblicato una ricerca proprio su Roma che faceva parte di un sintitolo, Roma, luoghi del consumo, consumi dei luoghi, analisi semiotiche e sociolinguistiche, in particolare legate a tre luoghi, all'Arapacis, l'Auditorium e l'Esquilino e in questo caso, ad esempio, si trattava di una ricerca di carattere nazionale, quello che si chiamano i cosiddetti PRIN, che era molto difficile pubblicare in un'altra forma che non fosse stata questa, che ci dà la possibilità di raccogliere i nostri materiali e avere un risultato in termini di pubblicazione ben articolato, ben fatto, anche se la ricerca è piuttosto ampia. Un'altra linea che consideriamo interessante per questa collana, che appunto si chiama collana di semiotica, è quella di poter pubblicare delle ricerche di giovani studiosi. Giovani studiosi, qui ne abbiamo già un paio, per esempio Giovanni Bove, che è stato il primo libro, Scrivere futurista, la rivoluzione tipografica tra scrittura e immagine, e poi ne abbiamo un altro che è Dario Mangano, archeologia del contemporaneo, socio-semiotica degli oggetti quotidiani. Ecco, sono due casi di giovani studiosi che per l'appunto hanno optato per la nostra collana, proprio per dare, anche in questo caso, un buon risalto a una loro ricerca su un campo specifico. Poi abbiamo pubblicato ancora un libro costruito apposta, cioè Mitrologie dello Sport, 40 saggi brevi, a cura di tre giovani, ancora una volta Pierluigi Cervelli, Leonardo Romei e Francesco Sedda, in cui abbiamo lanciato questo tema e abbiamo raccolto gli interventi di molti studiosi di semiotica, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Abbiamo poi pubblicato la traduzione di un bel libro di Santos Zunzunegui sul museo e semiotica, che si intitola Metamorfosi dello sguardo, e infine abbiamo pubblicato quello che tengo in mano, che a cura di licenza del Marco e mio, rappresenta gli atti del 38esimo congresso dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici, di cui sono Presidente. Questo volume è sulla fotografia, il titolo del convegno era Fotografia, oggetto teorico e pratica sociale, e anche in questo caso mi è interessato molto la possibilità di avere un volume che raccogliesse gli atti in tempi assolutamente concorrenziali, dato le modalità light di produzione dei libri. Ecco, naturalmente il limite di collane come questa potrebbe sembrare quello di essere un po' fatte in casa. In realtà questo problema non c'è, nel senso che la collana è composta a un comitato scientifico, è un comitato scientifico che è piuttosto nutrito, abbiamo diversi ricercatori e anche alcuni dei quali sono professori, uno Jorge Lozano è professore dell'Università Complutense di Madrid e abbiamo anche Costantino Meder che invece è professore presso l'Università di Lovagno e l'approvazione di un titolo e l'inserimento di un titolo nella collana passa appunto per un sistema di revisione tra pari. Questo significa che la proposta anzitutto viene vagliata collegialmente ma poi in modo anonimo si fa avere il testo a dei revisori che appunto riteniamo degni di fiducia per questo tipo di procedura e di pubblicazione quindi non c'è un problema in questo senso, siamo assolutamente sicuri e ci prendiamo la responsabilità dei testi che sono pubblicati nella collana. Grazie a tutti!